Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo già di fronte le rovine del lago Ceras, in modo tale che ovviamente in questo caso vi ho risparmiato praticamente tutta la strada, ed effettivamente mi ricordavo male, perché mi ricordavo si trovassero a sud-est del villaggio di Yushina, invece si trovano a sud-ovest, quindi in basso a sinistra. Quindi basta che voi ritornate all'indietro al villaggio di Yushina, e dopodiché andate in basso a sinistra, e vi ritroverete praticamente questo lago. Fate il giro, e dove notate queste rocce, praticamente potete entrare. Eccoci qua, rovine del lago Ceras. Oh 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 oh, qui c'è un amichetto davanti alla porta, eh? Vedete, qui ovviamente non si può scendere perché c'è l'acqua, ma questo sarà un luogo molto importante. So you've come. So, you're a friend of Lucretia's? I don't know her well enough to call her a friend, but she did tell me about you. First things first though, show me the Dawn rune. Perché devo vederla? Altrimenti perché? Sono molto impegnato. Datevi una mossa. Vedo, è lei, senza dubbio. Seguitemi, da questa parte. Ehi, aspetta un po', perché non ci dici dove stiamo andando? Già. Se voi altri non volete venire, fa lo stesso. Mi serve solo il principe. Sto tizio è davvero qualcosa che non va. Scusa, ma... Che c'è? Dici almeno come ti chiami. Oh sì, certo. Potete chiamarmi Zweig. E diciamo che sono uno studioso. E basta. Non sembra uno studioso. E tu non sembri un principe. Madonna che è sfacciato. Non fraintendermi, è un complimento. Per generazioni interi, i principi di questa nazione hanno dimostrato una totale mancanza di intelligenza. Ora, se siete soddisfatti, possiamo proseguire. Da questa parte. Ok, e lui è entrato in squadra. Ecco, lui effettivamente potrebbe essere interessante. Per cui leviamo Josephine e inseriamo Zweig. Qua è arrivato il momento di salutare la nostra Josephina. E andiamo. Qui tra l'altro adesso ci sarà una parte interessante. Ecco l'altro. Ecco l'altro. Ehi, tu! Non mi piace i forti, e tu guardi così frappi come si vengono. Allora si va di nuovo. Non dico cosa Zweig dice, devi essere più forte da me se vuoi passare. Prince, lascia me prendere questo! No. Ci penso io. Perso duello. Ma che bravo! Esatto, altro duello uno contro uno. Quanto mi piacciono sti duelli. Come on, show me what kind of man you are. I guess I'll just warm up a little first. I guess I'll just settle this thing right here and now. I'm still fine, I can still fight. The Damned! I guess sheer force alone won't get me anywhere. Non è vero, ma aspettate fino a che senti questo Non lascia che questo svegli il tuo cuore, sto solo iniziando Non lascia che questo svegli il tuo cuore, sto solo iniziando Ok, va bene allora l'hai, crema Come ho fatto a perdere contro un appamolle come te? Stai bene? Sei soddisfatta adesso? Di qua, seguitemi Aspettate E ora che vuoi, povera pazza, ti ha battuto senza mezzi termini Ok, forse non sei debole come pensavo Devo solo chiederti un favore, ecco Portatemi con voi per favore Posso venire allora? Ehi, chi ha detto che va bene? Non posso venire con voi Se ti lascio entrare, devi permettere di fare quello che ti verrà detto I patti sono questi Va bene, lo prometto Aspetta, entrare? Sì, entrare Cosa? Come è successo? Oh, il muro è scomparso Agia umana, terribile Lucrezia mi ha chiesto di portarvi qui Venite? Principe, speriamo di poterci fidare di questo tizio Ok E qui abbiamo anche l'orelai Possiamo togliere Cornelio adesso E mettere l'orelai Non c'è bisogno neanche di metterli nell'entourage No problem Wow È incredibile Ma che posto è questo? Queste sono le rovine della civiltà Sindar Nome che chi, soprattutto, ha giocato Shuigoden 2 Ricorderà benissimo Qui ci sono veramente molti più riferimenti Più al 2 che al primo Shuigoden In realtà E questa è una cosa che a me fa molto piacere Perché comunque il 2 Tra la saga, ovviamente, di Shuigoden È il mio preferito Quindi so bene di che cosa parliamo E tra l'altro l'orelai è un altro personaggio Che si incontra in Shuigoden 2 Che, insieme a Killei Ovvero il tizio col cappello rosso Che abbiamo liberato Alla prigione d'Agata Avrebbe sbloccato un dialogo extra Cosa che però non ci interessa, sinceramente Sindar? Puoi dire quei Sindar? Sì Il popolo che nel lontano passato viveva E prosperava su queste terre Possedevano una tecnologia molto più avanzata Rispetto alla nostra Ma scomparvero in maniera improvvisa Secondo la leggenda Il regno di Falena fu fondato poco dopo Io pensavo che fosse solo una storiella Come quelle che mi raccontava mio nonno Esistevano davvero? Queste rovine sono in uno stato quasi perfetto Considerando la loro età Credo di dovermi congratulare con te Per aver scoperto questo posto Sono stato fortunato Ecco tutto Anche tu sei stata brava a intuire dove si trovava Ho informato pochissime persone della sua esistenza E allora sono stato fortunato anch'io Ehi Allora la chiave per distruggere la fortezza dell'odio sta qui vero? E' questo che vi ho detto Lucrezia? E' qui sì o no? Beh Credo che non si sbagliasse del tutto Come al solito troviamo delle rovine quasi perfette E la prima cosa a cui pensa quella E' di usarle come armi E poi dicono che le donne hanno uno spirito conciliatorio C'è qualcosa che vorresti dirmi Zweig? Non te la prendere Andiamo Ok E adesso qui parte l'esplorazione Praticamente del dungeon Perché queste rovine sono effettivamente Un dungeon E io non mi ricordo assolutamente dove andare Quindi Faremo strada a caso Allora Qui c'è una porta Ma per il momento è chiusa Quindi andiamo via Allora Proseguiamo verso su Ovviamente io non mi ricordo niente di queste rovine Allora Qui ecco Ah era quello con le pedane Che noi si abbassano e si aprono le porte Vero? Ah ok Forse ho capito Forse me la ricordo qualcosa Non al 100% ma qualcosa si Allora Abbiamo fatto Cioè ho fatto anzi Tutte le manopole per aprire le porte Quindi questa è la prima porta Che è quella del corridoio a destra E dopo andremo alla porta a sinistra Ecco qua Prima pedana gigante Per bloccare il flusso d'acqua centrale Ok Adesso manca solo la seconda Qui nel frattempo abbiamo un bel forzeruccio Tattica tigre Che non mi ricordo assolutamente cosa sia Più 10 di attacco E 10 di magia nelle retroguardie Non male questa E allora io qua devo andare per forza in avanti Mentre invece voi dovete andare dietro Che avete la magia Va bene così Boh Easy Altra porta Aperta sempre nel corridoio di destra E altro pannello Anzi altra pedana in questo caso Che tecnicamente ha tolto un'altra barriera d'acqua E adesso mancherebbe soltanto l'altro Magia di base? Oddio Questo è un oggetto importante se non sbaglio Il livello del tuo insegnante sale a B Sì esatto Questo non mi ricordo cos'è la corazza divina Va bene Andiamo indietro Terza porta Con ovviamente la terza ed ultima pedana Ultima pedana Il dungeon comunque di per sé è molto facile Quindi non ci sono problemi Tutte le strade portano a qualcosa O un forziere O una porta O una pedana da premere Ok Abbiamo aperto Tutte le valvole Quindi abbiamo Abbiamo avuto modo di eliminare La cascata Vi ripeto Il dungeon è comunque molto viabile Cioè ci sono tutte le strade Ma ogni strada porta a qualcosa Quindi Basta girare un po' tondo E lo risolvete tranquillamente Io ho curato già tutti i membri del party Potremmo effettivamente Tornare indietro al A raft fleet Per aumentare il livello delle armi Dei personaggi Ma non c'è bisogno Andiamo avanti Affrontiamo il boss Ecco perché serviva il principe Ecco perché serviva il principe Ecco perché serviva il principe Questo pattern Non sembrava come Il don rune Sì E' proprio il motivo C'è quello che ho portato Tu non pensi che ho portato Outsiders Qui sono un solo L'acrissio L'acrissio C'è quello che Come Prince Travi l'acrissio C'è quello che Mi intuizione è vero C'è Non credo Queste ruines ancora vivono C'è 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 Oh Allora Allora Possiamo tornare un attimo Indietro Perché come notato A sinistra C'è Un'altra porticina C'è Un'altra stanza Quindi io devo guardare Effettivamente Cosa c'è L'adietro Credo che ci sia Forse Ah no Non c'era nulla Ok Mi ricordavo Ci fosse un qualcosa Niente Abbiamo sprecato tempo CG Complimenti Va bene Andiamo Qui ora dovrebbe esserci Il boss Infatti qui c'è Il salvataggio Che ovviamente Facciamo Al volo Proprio per Evitare Di rifare Tutta la rottura Di palle Delle rovine Eccetera Eccetera Perché sinceramente Non ne avrei Voglia Proprio zero Ok E andiamo Oh Wow Ah Proprio come pensavo Che vuoi dire C'è un fiume Che si mette Nel lago Ceras Ma dal lago Non esce nulla Lo sai perché Il lago non strariva Ho sempre sentito dire Che c'è un buco In fondo al lago E che l'acqua scorre via Da lì No L'acqua scorre In un corso d'acqua Sotterraneo Ma non passa Attraverso un buco Passa da qui Quindi Chiudendo L'argine Sembra che la mia teoria Fosse corretta Teoria Il lago Ceras È artificiale Fu creato dai Sindar Creato dai Sindar Se andiamo avanti un altro po' Credo che capirete Ma Cosa vuoi che sia? Una boss fight Una boss fight Ovviamente Eccoci qua Sole di diamante A E sole di diamante B Quindi Cominciamo Io ovviamente Runa dell'alba Ancora non posso fare Un Kaiser Quindi Andiamo di Insieme E qui invece Vento Tuono Lui rune Non ne ha Mi ricordavo che Zweig Avesse una runa Con la runa Incremento Dovrei comunque Fare dei bei danni Non credo di Shottare Tutti subito Però Ecco Mi ha scottato Uno è terra E uno è fuoco Terremoto Colpisce tutti Questo Allora Attacco Coop Oddio Fiamme danzanti E mi dispiace Che Kyle Si sia Stordito Perché mi avrebbe Fatto comodo In realtà Anche perché La runa Incremento Tra un po' Svanisce E quindi Io Muoio E cala Porca miseria Tutti e due Sono crepati Non me l'aspettavo Quella Dizzness Dai Che palle Allora Qui da un lato È fatto apposta Per farti sfruttare La runa dell'alba Perché tu Con la runa dell'alba Curi Praticamente Gli status Alterati Però Minchia È sfiga Questa Eh di quelli Sono congelati Addirittura Allora Uno è praticamente Morto Eh ma qui Abbiamo finito Praticamente I Abbiamo finito Ancora Non è morto Cioè la runa Dell'incremento È finita Quella è stordita Più che altro Kyle E Leon Non dovevano Crepare Perché io Praticamente Non ho nessun altro Che fa danno Unque Ancora non è morto? Ah, ecco, uno. Uno è morto. Mi sembrava strano io ancora non crepasse. Ok, quello è congelato. Eh, qui la runa del tuono è ottima in realtà. Eh sì, ragazzi, qua purtroppo abbiamo rallentato tantissimo a causa del... Abbiamo rallentato tantissimo proprio a causa del fatto che hanno ucciso sia Kyle che Leon. Allora, qua possiamo attaccare. Tu hai ancora evento curativo? No. Vento Dormiente che sicuramente non funzionerà. Non hai più niente? Ok. Zweig, anche se muore sinceramente, non mi interessa più di tanto. Io ho una buona resistenza, questo sì. Ok, qua usiamo la medicina. Eh, qua abbiamo finito anche questo. Eh, l'orelai qui è ottima per il fattore magia che... La magia tuono è comodissima per fare danno. Vabbè, lui finché fa questi attacchi sinceramente mi va bene. Anche perché io comunque i danni ne faccio tanti a prescindere. Eh sì, la runa del vento non ho niente. Avendo... non so neanche se funziona il vento dormiente in questo caso. Ah, poi soffio il ghiacciato addirittura. Vabbè, sì che soffio il ghiacciato non sia... Potrebbe essere buono per il freeze, ma... Ovviamente lui è immune. La cosa positiva è che qui comunque anche i nemici hanno magie limitate. Cioè nel senso non possono fare spam di una determinata magia o di una determinata cosa. Quindi questa è comoda. Non credo di avere altri... Eh, di avere altre medicine. Quindi vabbè. Ragazzi stiamo andando a rilentissimo. Però che sta morendo. Sta morendo, dai. Ora ormai ce l'abbiamo fatta. Allora, lo facciamo così. Tu fai medicina. Vedete, 200 e passa a colpo. Sono tanti i danni. Ok, lui nel frattempo prende danno da congelamento. Che va benissimo. Se avessi avuto Kyle e Leon... Sarebbe durato molto meno. Ecco qua. Però con la scusa è buono. Così aumentò di livelli. Faccio tanti livelli. Allora, corazza fiamma. Si deve prendere per forza. No! Ok, così avrò la scusa di rigiocare la boss fight. Ok, ho rifatto la boss fight. Altro questa volta ho eliminato più persone. Così ho preso più esperienza. Ma ho preso tutti gli oggetti che mi interessavano. Andiamo avanti. Tutto qua? Sembra un vicolo cieco. Ah? Wow, anche qui c'è la runa dell'alba. Ed è uguale a quella sulla porta che abbiamo visto prima. Chissà che vorrà dire. Quella stupida cosa mi ha fatto sobalzare. Ma credo che stesse solo brillando. Questa iscrizione è lingua Sindar. Ehi, tipo con gli occhiali. Che fine ha fatto la chiave che dovrebbe distruggere la fortezza dell'odio? Non abbiamo visto nessuna chiave in giro. E invece sì. La chiave è stata qui tutto il tempo. Ce ne sono in abbondanza nel lago Ceras. Sì, a quanto pare avevo assolutamente ragione. E le rovine funzionano perfettamente. Principe, ho visto quel che mi serviva. Torniamo indietro per ora. Di già? A essere onesto, sono curioso di provarla subito. Ma adesso non è ancora il momento. Lucrezia ci aspetta a Raftfleet. Sono certo che avete altre domande. Ma vi spiegherò tutto là. Ok. A questo punto abbiamo finito, in questo caso, il dungeon. E possiamo tornare indietro. E tra l'altro, adesso, se non ricordo male, qui dovrebbe esserci un reclutamento che dovrebbe essere interessante. Allora, qua c'era un forziere, se non sbaglio, vero? Ah no, qua... Ok. Spezzavo. Sì, era la discesa. Allora, salviamo un attimo. Visto che abbiamo fatto la boss fight, sinceramente, non mi va di rifarla. Perché quei due tipi sono abbastanza fastidiosi. È vero che comunque si possono counterare in tanti e tanti modi. E io non avevo né Lorelai né Zweig con le armi livellate. Per cui mi hanno fatto... facevano pochissimi danni. Tranne per Lorelai che, fortunatamente, con le rune riusciva a fare qualcosa. Zweig era completamente una palla al piede. Ed è stato anche un errore mio non aver ricaricato le rune di tutti. Perché avrei dovuto ricaricare gli utilizzi delle rune di tutti e invece non l'ho fatto. Perché me lo sono completamente scordato. Quindi rip. Ok, usciamo. Diciamo che ho dato troppa fiducia alla runa dell'incremento. Ecco, mettiamola così. Eccola qui. E' c'è. Esatto, Lorelai si incontra sempre in questo modo. Eccolo. 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 Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Ok, ho fatto il mio mento. Ho vittese. Eccolo qui. Finalmente Vicky Ogni volta che si recluta Vicky in Shui Coden È sempre un evento piacevole Ma cosa è successo? Siamo a Raftfleet? Ma come abbiamo fatto ad arrivarci così in fretta? Che paura! È stato molto rapido È stata una specie di runa ragazza Allora era qui che volevate andare Oh per fortuna Avevo paura di essere un po' rugginita Ma sembra che tutte le parti dei vostri corpi siano Ehi Quella pazza non c'è più o meglio Una delle pazze non c'è più Ehi hai ragione Oh cosa? Uffa l'ho fatto di nuovo? Ah Lorelai? Non preoccupatevi Non stava con noi quando abbiamo lasciato le rovine Forse voleva esaminare le rovine da sola Non capisco perché sia così interessata alla razza dei Sindar Ah ok Non è che poi manchi così tanto Uffa per fortuna Tenerevo che la sua testa si fosse staccata dal resto del corpo Scusami ragazza Mi interessa molto la tua runa Ma prima credo che ci siano altre cose di cui occuparsi vero? Devo parlare con Lucrezia Portatemi da lei E qui abbiamo reclutato Vicky Vicky è abbastanza interessante come personaggio Perché ha la runa Che comunque fa diversi attacchi a Oe Quindi può essere interessante Allora qui vediamo nel frattempo come siamo combinati Il prezzo della soia si è salito alle stelle Niente Non è ciò che ci interessa al momento Vabbè Andiamo avanti Dannazione Ok tu non mi dici nulla di nuovo Vediamo se Oboro è tornato nel frattempo Sì è tornato Su altezza Lascia che le dica quello che ho saputo Ecco qua Beh ho perlustrato il mondo intero Ho chiesto aiuto a tutti quelli che mi dovevano dei favori E alla fine scopro che sta proprio sotto il tuo naso Allora andiamo ad indagare ancora Qualcuno Che ci può interessare Mandiamolo da Gavaia dai Facciamo così Ok Così giusto per Anche se tanto Li recluteremo tutti Non è un problema Quindi va benissimo così Allora Volevo provare ad andare un attimo dallo chef Perché adesso che ho gli ingredienti Non so se cambiava qualcosa Credo di noi in realtà Perché lui ha un momento specifico Eh sì Prima devo ottenere il castello Diciamo Il mio castello Per poter reclutare Tutti questi personaggi Che comunque diventano cuochi Diventano Diciamo Parte fissa Del mio Del mio entourage Quindi va bene Allora andiamo da Lucrezia In realtà potrei anche potenziare le armi Ma Vicky usa le magie Quindi Sinceramente Non mi interessa più di tanto Zweig più che altro Ma siccome Zweig ancora non lo abbiamo reclutato Lasciamolo perdere Nel momento in cui poi recluteremo Potenzieremo le armi Ma per ora Lasciamoli Lasciamoli a parte Non ci interessa Ah qui ci sono tutti gli altri Nostri personaggi Allora invece Vado a fare un po' di level up Ora Delle mie stats Ehm E credo di staccare qua Così poi la prossima volta Parleremo con Lucrezia E faremo praticamente Tutta la campagna Per la liberazione Di Lord Lake Quindi Grazie ancora Per essere stati con me E alla prossima Grazie per la visione Grazie a tutti.